E sull'importante accordo per il recupero produttivo delle cartiere Pigna di Alzano Lombardo abbiamo intervistato il Presidente, amministratore delegato dell'azienda Giorgio Iannone e il Consigliere regionale, nonché ex Indaco di Alzano, Roberto Anelli. Consigliere Anelli, oggi è una giornata importante, il progetto per Alzano Lombardo continua a tappe serrate? Assolutamente sì, è una giornata importantissima perché questo progetto che abbiamo seguito ormai è inseguito da 4-5 anni, ha avuto il suo iter conclusivo peraltro con la benedizione del Presidente della Regione Lombardia il quale ha riconosciuto che è un progetto valido, duplicabile, è un progetto di esempio per la Lombardia e forse per l'intera intera. Io devo ovviamente ringraziare tutti i miei amministratori perché come ex Sindaco di Alzano Lombardo sono stati loro a dare forte lavoro e una forte mano a me e all'amministrazione e abbiamo attuato quello che per noi era un sogno, mantenere le cartiere Pigna ad Alzano Lombardo e la crisi però non è ancora finita, ma soprattutto adesso patte un nuovo iter che c'è una riqualificazione degli altri 54 mila metri quadrati di area industriale produttiva che devono essere riqualificati. L'operatore privato che è diverso dall'operatore delle cartiere Pigna si sta impegnando e ovvio che abbiamo ancora bisogno dell'aiuto di tutti, di tutte le istituzioni possibili sul territorio della provincia di Bergamo e della Regione Lombardia. Diciamo l'azienda è un'azienda antichissima, la Pigna del 1839, quindi una delle più antiche aziende d'Italia è il primo esempio proprio in Italia e in Lombardia di vero e proprio accordo tra tante istituzioni il comune di Alzano Lombardo, la Regione Lombardia, Confindustria e Sindacati e molte altre istituzioni. Stiamo cercando in un percorso che in realtà è ancora lungo di salvare e rinnovare un'azienda che rende difficoltà. È possibile farlo solo se tutte queste istituzioni vanno nella medesima direzione che è quella di rilanciare un'azienda, reinvestire sul territorio e ricreare nuova serie, nuovi stimoli industriali. Un'azienda che va controcorrente rispetto alle tendenze italiane, ovvero di delocalizzare e andare all'estero. Certo, è molto più facile delocalizzare, noi abbiamo un'unità produttiva importante in Romania ma abbiamo scelto di stare in Italia, stare in Lombardia e stare ad Alzano Lombardo. Stare in Italia non è semplice perché le leggi sono davvero complicate ma diciamo che la nostra gente, i nostri lavoratori meritano il massimo rispetto e noi vogliamo investire sulla loro capacità di produrre sul know-how che questa azienda ha ormai da quasi due secoli. La conferenza stampa ha detto che adesso ci sarà da lavorare duro, cosa bisognerà fare? Certamente c'è ancora molto da fare, il percorso è lungo, la crisi è durissima per cui ci sarà ancora sicuramente un lavoro complicato e che non è certo finito qui. Questo è un punto di partenza e non di arrivo. Sono convinto che se si lavora tutti insieme nella stessa direzione si possano aggiungere risultati importanti. Grazie.